Le scelte dell'allenatore Pazzini e del Sant'Ermette danno scacco a nuova fette nella prima frazione, ma i giallobru dimostrano la loro forza, trovano il pareggio e cercano di sfruttare l'espulsione di Vukai per roversare le sorti dell'incontro. Quando il Sant'Ermette finisce in parità, 1-1, un risultato sostanzialmente giusto in una gara condizionata dal forte vento. Nella prima frazione qualche tentativo velitario per parte, da calcio piazzato, Vukai apre i giochi cercando di sorprendere Semprini, ma la sfera termina alta. Dalla parte opposta, Paolo Gori, aiutato dal vento, mette quasi quasi paura all'attento Guerra. Dalla stessa posizione defilata, ma leggermente più avanzato, prova a sfruttare l'effetto vento anche Fraboni, ma Guerra si distende, atterra e blocca. Poi al 22esimo, Sant'Ermette passi in vantaggio, Nicolás Casali lancia Montebelli, che entra in area e infila Semprini sull'angolo lontano. Nulla può questa volta il portiere ospite. I padroni di casa allassano il consigliato 4-2-3-1 per il 4-3-2-1, con Nicolás Casali che si allarga per contrastare le incursioni di Gori, mentre Molani si abbassa a pressare il regista Fraboni. Fraboni da calcio piazzato serve a radici che duetta con Federico Baldinini, ma Guerra blocca senza affanni. A 41esimo, però, gli ospiti pervengono a pareggio. Cupi calcia di sinistra dalla distanza, tiro senza pretese, che diventa imparabile per una deviazione di Zabattini, e si infila alla sinistra dell'incorpevole Guerra. Nella ripresa, Nicolás Casali viene ammonito per un fallo vistoso. Durante l'ammunizione, Bucay va a dire qualcosa al direttore di gara, e per questo viene allontanato anzitempo dal terreno di gioco. Non senza polemiche, specie verso il pubblico ospite che lo bersagliava. Peccato perché i padroni di casa, come lo scorso anno, giocano questo derby, rimanendo ancora una volta con l'uomo in meno. Il nuovo affetto a questo punto sfrutta l'inferiorità numerica per attaccare. Fabri decide di lanciare la terza punta a Francesco Baldinini, ma prima, al cinquantaseesimo, c'è un tiro del nipote proprio di Achille Fabri, dalla distanza, che serve per monitorare la situazione in zona Semprini. Il portiere ospite si fa trovare pronto all'appuntamento con la presa. Al sessantaseesimo, cross di Cupi dalla destra, difesa di Sant'Almetri sbaglia in disimpegno, ma il tiro di Baldinini è troppo strozzato e viene bloccato da Guerra. Due minuti dopo, l'occasione più ghiotta. Francesco Baldinini allarga a sinistra per il neoentrato Rappi, che con un cross alla sotera trova l'inserimento di Cupi. La palla termina di poco a lato, alla sinistra di Guerra. Al sessantasequattresimo, punizione di Fraboni, in mancino serve il solito Cupi, che di testa colpisce la parte alta della traversa. Nel finale, il neoentrato Fabri si fa male ed è costretto a lasciare il campo al suo posto e entra Michael Casali. Le due squadre callano inevitabilmente, dopo aver speso molte energie, con l'ultimo sussulto firmato da Fraboni al novantaquattresimo, la cui punizione mancina termina però alta, sopra la traversa della porta, difesa da Guerra. Inova Fertia mantiene la vetta, porta a casa un punto che muove la classifica, ma vede tramontare l'ipotesi di essere solo a comando in virtù del pari imposto dall'avversario e mercoledì nuovo derby al comunale con Iverrucchio.